Davanti ai mille perché della nostra vita impariamo a bussare con coraggio al cuore di Dio nella preghiera e il Padre ci darà il dono dello Spirito Santo che è il di più per noi Suoi figli. Papa Francesco lo ha sottolineato nell'enomelia della Messa celebrata nella Basilica di Santa Maria Maggiore in occasione del centenario della Fondazione della Congregazione per le Chiese Orientali e del Pontificio Istituto Orientale. Tra i tanti perché da rivolgere a Dio, il Papa ha ricordato le persecuzioni drammatiche e la diaspora sempre più inquietante che subiscono i cristiani delle Chiese Orientali in questa terza guerra mondiale a pezzi. Anche se vediamo i malvagi schiacciare gli altri per i propri interessi e ottenere quello che vogliono Gesù ci dice nel Vangelo di Luca che chiunque chiede riceve e chi bussa verrà aperto. E non prosegue dicendo darà cose buone a voi ma darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Proprio questo è il dono, questo è il di più di Dio. Quello che il Signore, il Padre, ci dà di più è lo Spirito. Ecco il vero dono del Padre. L'uomo bussa con la preghiera alla porta di Dio per chiedere una grazia. E Lui che è Padre mi dà quello e di più, il dono, lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, impariamo a bussare al cuore di Dio. E impariamo a farlo coraggiosamente. E impariamo a bussare al cuore di Dio.